il movimento cristiano lavoratori festeggia i suoi primi 50 anni con noi abbiamo il piacere di avere il presidente provinciale appunto del mcl arezzo maurizio pagliai quindi questo momento è importante noi 50 anni quindi come vi presenterete anche al territorio la nostra grande organizzazione presente su tutto il territorio nazionale anche all'estero 1972 e la nascita la nascita 2022 50 anni di storia nata come da una scessione si sa tutti delle a dalle acli erano anni importanti quelli nel 68 70 ci fu questo moto nei confronti della del potere praticamente la classe operaia gli universitari la chiesa lo stato eccetera anche all'interno dell'acli che quel tempo contava ben un milione di soci ci fu questa questa rottura interna per cui il movimento si si staccò cose che ormai sono passate 50 anni sono superate sono anacquate noi infatti adesso andiamo tranquillamente su tantissimi temi d'accordo con le acli facciamo tante cose insieme quest'anno è il cinquantesimo anno non lo vogliamo perciò considerare come una un divorzio come una una scissione ma lo vogliamo considerare proprio come un compleanno come una festa c'è un momento di gioia e intendiamo farlo abbiamo pensato di farlo nei primi giorni di ottobre a presso la basilica di san domenico ad arezzo quella del cimabue per intenderci chi non conosce questo luogo perché ci seguono in tutta la toscana e anche in umbria quindi voglio dire che la chiesa di san domenico nella città di arezzo all'interno questo valore assoluto una basilica bellissima io mi sono anche sposato per cui anche io siamo in due la nostra parrocchia allora ci sentiamo di casa ci sarà un'orchestra loida l'orchestra di arezzo che eseguirà dei brani da film piuttosto musica abbastanza bella conosciuto ricchiabile certo eccetera poi un breve filmato dove faremo conoscere un po la storia del nostro movimento infine come tutti i compleanni un buffet o una feta di torta deve essere una festa deve essere una festa perché insomma il movimento cristiano lavoratori ha dei valori importanti ne cito tre sociale la socializzazione la solidarietà e il volontariato quindi è un movimento cristiano no anche dedicato molto alle famiglie sì è un movimento cristiano a queste le parole più ricorrenti sono solidarietà e sussidiarietà cerchiamo di ecco mettiamolo così l'uomo è un essere complesso no qual è la cosa più importante di tutto il mondo è l'uomo è la persona e pur avendo tante capacità però anche tanti bisogni alcuni di questi bisogni vengono soddisfatti dalla mcl specialmente quelli relativi al patronato per cui la previdenza per risolvere i problemi fiscali eccetera ma tantissimi altri perché spaziamo dalla formazione lavoro all'ente che è l'ente del turismo alle cooperative alle badanti per quanto riguarda tutto posso dire che il lavoro è proprio uno dei valori importanti per il movimento il valore il lavoro è la cosa più importante cioè voglio dire e questo ecco mi preme dirlo perché c'è stata una un'evoluzione incredibile nel lavoro in questi ultimi 50 anni si parla di smart working infatti che l'avrei chiesto anche come è cambiato no all'interno si parla di smart working si parla di robotizzazione che hanno tolto tanto tanto lavoro anche alle persone anche lavori pesanti automatizzazione eccetera però alcune cose sono rimaste veramente difficili da digerire specialmente da noi e sono soprattutto le disuguaglianze nell'ambito del lavoro anche fra contratti ci sono tanti contratti ma anche di genere mi verrebbe da dire di genere fra uomo e donna fra nord e sud fra giovani anziani c'è tantissime differenze ancora senza parlare poi delle morti bianche che ancora nonostante tutto si si presentano si vedeva in questi giorni tre morti al giorno è una cosa incredibile e insopportabile nel 2022 esatto e noi come come movimento ci impegniamo in questo sempre per ricordare il primo maggio abbiamo fatto questa manifestazione abbiamo portato una corona di fiori ai caduti sul lavoro abbiamo portato un mazzo di fiori anche su all'archivio di stato dove sono scomparsi i due lavoratori in un modo veramente assurdo ed incredibile e ci teniamo a insistere perché ci sia proprio un'attenzione maggiore in questo senso ma anche da parte del lavoratore stesso che deve denunciare eventualmente carenze che ci possono essere nel mondo del lavoro posso dire che è da una vita che ci si batte no? sì però si ottiene poco si ottiene poco e forse dobbiamo allora essere noi noi stessi perché siamo noi dopo che ci rimettiamo la vita siamo noi che non ritorniamo a casa nelle nostre famiglie e le lasciamo nella disperazione più assoluta per cui dobbiamo fare qualcosa noi allora 50 anni abbiamo detto è una data veramente importante quindi ricordiamo ottobre avete già una data esatta? pensiamo il sabato mi sembra che sia il 6 però stiamo organizzando il tutto vabbè comunque potremmo trovarlo insomma ecco però sì è aperto poi a tutta la cittadinanza perché deve essere una festa siamo tutti invitati insomma ecco e poi anche se uno adesso sentendo la nostra intervista capisse no? dice vorrei anche aderire al movimento può farlo tranquillamente? tranquillamente noi abbiamo degli uffici qui in città ne abbiamo uno in via Margaritone e uno in via Concino Concini ne abbiamo tantissimi altri in provincia tanti uffici e tanti sportelli poi a livello nazionale ribadiamo eh e poi sì a livello nazionale certo però e poi la cosa bella ecco che io tengo e che devo ringraziare sono i nostri operatori che sono veramente attenti a certe tematiche e hanno diciamo fra virgolette uno stile particolare che ci deriva dalla dottrina sociale della Chiesa per cui quando uno viene da noi trova amicizia trova gente disposta ad ascoltarlo soprattutto accoglienza e ascoltarlo e c'è tanto bisogno di questo nel 2022 c'è bisogno proprio di questo dobbiamo rimettere al centro l'uomo esatto e dare ascolto, ascoltare, accoglienza perché quella è la prima cosa perché le miserie sono tante non soltanto quelle con noi no e il lavoro dà la dignità non solo per il sostentamento ma anche dignità allora siamo tutti invitati dall'MCL appunto per i suoi 50 anni e ve lo ricordo Movimento Cristiano Lavoratori e con noi abbiamo avuto il presidente provinciale MCL Arezzo Maurizio Pagliai grazie grazie a tutti grazie a tutti